Abbiamo terminato questa domenica a densa di appuntamenti. Prima di lasciarvi in compagnia dei nostri programmi regionali, voglio ricordarvi l'appuntamento di domani sera alle 20.30. Un gruppo di sbandati cerca la salvezza sfidando gli orrori della guerra di War Bus. Ed ora, buonanotte. Tanti auguri a tutti i papà. Da Odeon e da Verdi. Il profumo italiano per l'uomo. Il profumo italiano per l'uomo. Il profumo italiano per l'uomo.